Restituiti stamani le terre occupate alla cooperativa Rosario Livatino, Libera Terra. L'iniziativa si è svolta presso i terreni della cooperativa Rosario Livatino, con una breve cerimonia di riconsegna dei terreni liberati grazie all'opera della Procura della Repubblica, ai carabinieri del Centro Anticrimine Natura, a quelli della stazione di Naro. Alla cerimonia è stato presente il procuratore di Agrigento, dottor Luigi Patronaggio. Questo è un fondo che apparteneva alla famiglia Caramazza, un fondo che è emblematico della storia della mafia rurale siciliana, un fondo che a poco a poco è passato dal privato in mano a mafiosi, passando dai Di Gioia di Canicattì a Giuseppe Genco Russo, fino ad arrivare a Guarnieri Diego, a cui è stato confiscato definitivamente. Mi piace ricordare che uno dei giudici che ha lavorato per restituire questo fondo alla collettività è stato proprio Rosario Livatino, in quanto membro del Tribunale Misure di Prevenzione di Agrigento. Per cui c'è un filo ideale che lega Rosario Livatino alla cooperativa Rosario Livatino Libera Terra, che oggi è il legittimo possessore di questo fondo. Il fondo è sempre stato in mano alla mafia, alla mafia rurale, fin quando poi non sono intervenuti i provvedimenti di confisca definitivi, è passato all'Agenzia Nazionale del Demanio, al Comune di Naro e poi affidato alla cooperativa Rosario Livatino Libera Terra. Noi siamo intervenuti sostanzialmente alla fine di questo lungo percorso, perché la cooperativa ha sempre trovato difficoltà a lavorare su questo fondo, perché ci sono stati interessi contrastanti, ha subito furti, danneggiamenti, incendi, furti d'acqua, e per cui noi abbiamo ritenuto di dover intervenire insieme ai carabinieri che ci hanno aiutato a ricostruire questa complessa vicenda e restituire questo terreno ai legittimi proprietari, che speriamo oggi lo coltivano, lo devono coltivare in quella che è una grande scommessa. La grande scommessa qual è? La grande scommessa è lo sviluppo nella legalità. Questa è la grande scommessa, cioè restituire i beni confiscati alla mano, e alla mafia a organizzazioni, a lavoratori, a cooperative che portino l'economia legale laddove c'era l'economia illegale. Quanto è esteso il potere? Il potere è esteso circa 190 ettari, variamente coltivato, insiste un laghetto. Tra le cose che abbiamo trovato quando abbiamo permesso alla cooperativa di rimettersi in possesso abbiamo trovato 1200 pecore, che abbiamo chiaramente allontanato dai fondi e che gestire 1200 pecore non è semplicissimo. È stata un'operazione complessa? Quanto tempo è servito affinché il bene fosse liberato? Più che complessa è stata un'operazione che ha dovuto fare i conti con degli accertamenti minuziosi sui terreni, catastali, perché chiaramente, lei capisce bene, qui siamo in terra di nessuno. Per cui è complicato in questo senso. Poi è chiaro che l'arma dei carabinieri ha rimesso le cose al suo posto e ha riportato la legalità. L'arma di Agrigento nella sua componente territoriale e specialistica, sotto la guida della Procura della Repubblica, ha, dopo oltre un decennio, fatto sì che i terreni fossero restituiti ai legittimi proprietari. Le difficoltà sono state di vari ordini. Nel senso che abbiamo dovuto ricostruire chiaramente tutta la genealogia del territorio, quindi attraverso le visure catastali, le visure delle mappe e quanto altro. Ricostruita la parte, diciamo così, documentale, ci siamo dovuti confrontare con un altro problema, quello praticamente dell'occupazione dei terreni da parte di pastori, che appunto per occupare questi terreni avevano piazzato un greggio di oltre 1200 capi per la prevalenza ovini, che erano chiaramente di difficile movimentazione. Gli ovini sono stati tutti controllati, sono stati catalogati e sono stati ricollocati in altri terreni al fine proprio di liberare quelli illegittimamente occupati. Questo dimostra che alla fine le fatiche e i sacrifici non sono mai inutili. Tutto quello che fu l'impegno e soprattutto anche la fatica dell'Ivatino per sequestrare questi beni, ricordiamo che la legge a Rognano la Torre è stata appena approvata, quindi la difficoltà ancora nel giungere anche all'atto finale, che era quello previsto dalla legge, della confisca dei beni e quindi della loro restituzione al bene collettivo. Certamente comunque lui iniziò questa fase, lui iniziò con un grande coraggio, comprese subito che per fermare in qualche modo il fenomeno mafioso non bastava il carcere, perché il carcere in qualche modo il mafioso lo mette in conto, ma togliere questi beni ai mafiosi significa realmente metterli in condizione di essere depotenziati e quindi di non poter più svolgere le loro attività criminali con grande facilità.